Salve a tutti, oggi un nuovo video, finalmente dopo tanto tempo, per parlare di Nalini Singh e in particolare della sua serie Psi Changerine. Ci sarà un video dedicato alla recensione del suo ultimo libro, Alpha Knight, e poi ci sarà un altro video dedicato invece alla serie, nella sua interezza. Allora, cominciamo a parlare della serie in generale. Prima di tutto c'è da considerare il fatto che Nalini Singh è già un'autrice conosciuta qui in Italia grazie all'Arcangel serie, o alla Gilda Hunter serie, come la volete chiamare, che è stata pubblicata nei primi quattro libri da Nord Edizioni. Entrambe, sia la Gilda Hunter serie che la Psi Changerine serie, sono serie urban fantasy, paranormal romance, ma mentre la Gilda Hunter serie ha un numero di libri ancora abbastanza basso, infatti arriveremo nel 2020, a fine 2020, al tredicesimo libro, la Psi Changerine serie conta 15 libri nella serie principale e già 4 libri nel suo spin-off continuo, sequel, ma che io considero semplicemente sempre Psi Changerine serie, perché tra la serie principale e la Trinity Series, che non è altro che uno spin-off, o meglio un seguito, non c'è un salto temporale, cioè dove finisce una continua l'altra e i personaggi e il mondo in cui sono ambientati sono sempre quelli, quindi è solo che cambia il contesto politico e quindi leggermente l'ambientazione dalla prima serie alla seconda serie, ma non si nota la differenza, quindi per me praticamente Alphanite, che sarebbe il quarto libro della Trinity Series, non è altro che il diciannovesimo libro della serie, ok, Psi Changerine. Di cosa parla questa serie? Allora, abbiamo un mondo simile al nostro, in cui però abbiamo tre categorie di persone che lo abitano, ok, il mondo è esattamente come il nostro, più o meno, nell'epoca nostra, più o meno, però abbiamo tre gruppi, abbiamo gli umani, normali, come noi, ok, poi abbiamo i changeling, che sono nient'altro che mutaforma, cioè esseri umani che si trasformano in leoni, falchi, delfini, lupi, leopardi, eccetera, eccetera, ratti, eccetera, eccetera, ogni tipo di animale quasi, e poi abbiamo gli psi, che non sono altro che sempre esseri umani, però dotati di poteri psichici, ok. Queste tre razze convivono più o meno pacificamente, ok, ma a mio avviso la razza più potente o comunque predominante, soprattutto all'inizio della serie, è, e anche la più problematica, sono gli psi, perché hanno dei poteri superiori alle altre razze, soprattutto rispetto agli umani normali, i loro poteri psichici gli permettono di avere molti vantaggi da un punto di vista politico, eccetera, cioè non esitano a sfruttare i loro vari poteri psichici verso le altre due razze, e mentre i changeling sono avvantaggiati nei loro rapporti con gli psi perché sono in parte immuni ai loro poteri psichici, da un'altra parte comunque gli psi hanno, potendo diciamo vincere sugli umani, hanno creato un loro impero che, insomma, hanno creato delle alleanze politiche, economiche, eccetera, che gli permettono di controllare a livello mondiale l'economia e quindi di avvantaggiare la loro razza rispetto alle altre razze, e i changeling si devono arrangiare come possono, ma comunque sono anche loro una forza da non sottovalutare. Allora, posto questo, i poteri psichici degli psi variano, e a seconda dei loro poteri gli psi sono categorizzati all'interno della loro razza, qua la sto facendo molto semplice, in realtà diciamo che le categorie all'interno degli psi sono veramente varie, veramente ricche, ma comunque Nalini Singh, l'autrice è molto brava a spiegarle senza diventare prolissa e te le spiega all'interno della storia in modo che tu neanche te ne accorgi, quindi è una cosa complicata, ma non così complicata e spiegata molto bene all'interno dei libri. Allora, come stavo dicendo, ci sono varie tipologie di psi, di poteri psichici, io vi dico le principali, quelle più potenti, diciamo abbiamo quelli che hanno delle doti che riguardano il combattimento, quindi sono capaci di incapacitare gli altri e quindi sono verso un ramo militare, psioni, spionaggio o altre cose, perché hanno delle capacità offensive. Poi abbiamo quelli che hanno delle capacità mediche, sempre a livello psichico, quelli che hanno delle capacità di prevedere il futuro e questa è una categoria molto, molto in vista all'interno degli psi e poi abbiamo quelli con delle capacità emotive, gli empati, che però all'inizio della serie di Nalini si pensa non esistano più, perché ad un certo punto della storia degli psi la razza ha deciso, o meglio chi comandava all'interno della loro gerarchia ha deciso che si dovesse passare al silenzio, cioè il fatto di avere questi poteri psichici rendeva molti membri della razza particolarmente sensibili alle malattie mentali. Problemi mentali, pazia, aggressività legata a malattie mentali eccetera, erano molto diffuse all'interno degli psi e eliminando le emozioni attraverso un protocollo tipo lavaggio del cervello fatto ai loro figli, si è un ricondizionamento se lo vogliamo chiamare così, si pensava di poter risolvere questo problema, perché? Perché si pensava che le emozioni aumentassero i disturbi, cioè era il fatto di non poter controllare i loro poteri legati all'emozione a peggiorare le malattie mentali o i loro problemi psichici. C'era questa teoria, questa teoria è diventata predominante, chi comandava all'interno degli psi ha deciso di metterle in atto in modo anche abbastanza brutale, ma dovrete leggere i libri per vedere esattamente come, e quindi è stata creata una razza di psi negli anni che aveva eliminato le emozioni, eliminando le emozioni si erano anche dimenticati tra virgolette dell'esistenza della branca, degli empati all'interno della loro razza, ma quando comincia la serie di Nalini è proprio il momento in cui gli empati tornano alla ribalta, perché? Perché il costrutto che viene chiamato psi net, che non è altro che la rete a cui tutte elementi degli psi si collegano, perché hanno bisogno di essere collegati a rete, tra loro e soprattutto i loro poteri hanno bisogno di una valvola di sfogo e la psi net è in parte questo, in parte qualcosa che fa parte dei loro poteri, una specie di rete neurale comune a tutti loro, che però è tipo quello che noi anzi chiameremo una piattaforma, in cui loro fanno affare, in cui loro parlano, in cui loro comunicano, in cui ci sono delle regole, ma è una piattaforma, è una rete neurale staccata da loro ma formata dalle loro menti, ok? Cioè non è come se si unissero in una mente collettiva, rimangono singoli, ma su questo piano psichico mentale si vedono e coesistono contemporaneamente al mondo fisico, cioè per loro esistono questi due mondi, il mondo fisico e il mondo mentale e questo loro costrutto mentale comune la chiamano psi net, ma la psi net non è autonoma, ok? In parte è diventata senziente e questa è una roba che non ho ancora capito, ma comunque prendetela, l'autrice ci dice questo, in parte la psi net è diventata senziente, assorbendo le emozioni, i pensieri di tutte le persone, questo costrutto mentale è diventato in parte senziente e all'inizio della serie, nei primi libri della serie, vediamo come il protocollo del silenzio adottato dagli psi, abbia derubato la psi net delle emozioni che facevano parte del suo costrutto, quindi è come se a un muro fossero stati tolti dei mattoni, per un po' il muro starà su, ma più mattoni vengono tolti, più anni passano in cui la psi net non può assorbire le emozioni che fanno parte del suo costrutto, come la malta per i mattoni, più il muro si sgrettona e più la psi net comincia a dare dei problemi, ad avere dei buchi, delle fratture e gli empati cominciano a riapparire, di nascosto, perché? Perché comunque per la legge degli psi sono banditi, però alcuni di loro sono stati nascosti, sono stati preservati dai loro genitori, insomma le emozioni sottoterra esistono ancora e bisogna che comincino a emergere se ne rendono conto anche gli psi, anche chi governa a livello degli psi in parte se ne accorge, bisogna che riemergano, ma dopo si creeranno varie fazioni all'interno della razza, chi vuole che il protocollo del silenzio finisca, chi vuole che il protocollo del silenzio vada avanti, ma non si può fermare la natura più di tanto, quindi gli empati cominciano a ricomparire, quindi saranno molto protagonisti della serie di Nalini, sarà una delle branche degli psi, insieme a quelli con le doti da combattenti più presente all'interno della serie, non vi dico come andrà a finire col protocollo del silenzio eccetera, comunque questo fa tutto parte della trama che segue tutta la serie, direi che gli psi sono la razza predominante all'interno della serie e la trama che naviga per tutta la serie, per tutti i libri della serie appunto cosa succederà alla psi net, cosa succederà agli psi, perché se la psi net crollasse, gli psi morirebbero, o almeno pensano questo, in realtà durante la serie si scoprirà che gruppi di psi possono creare delle piccole reti familiari, di gruppo, quindi sono in grado le loro menti di creare delle piccole psi net, però non sono sicuri che queste piccole psi net gli bastino e di non aver bisogno della psi net, che li comprende tutti, temono che se crollasse la psi net, sicuramente molti morirebbero nello shock mentale di questo fatto, e per molti intendo milioni di loro, ma poi anche non sanno se le piccole reti neurali sarebbero sufficienti comunque a far sopravvivere qualcuno di loro, e quindi se crollasse la psi net pensano che per la loro razza sarebbe la fine, quindi per loro è importante preservarla, e questa perseveranza nel tentare di salvare la psi net è quello che percorre tutta la serie e anche il seguito della serie Psicangines, è diciamo una delle cose principali, questo è il fatto che ci siano varie fazioni, chi lotta a favore di salvarla con qualsiasi mezzo, quindi tornando alle emozioni, chi invece vuole che si ritorni a un protocollo di altro tipo, poi ci sono anche lotte politiche per il potere, sempre all'interno degli psi, e poi ci sono i rapporti degli psi con le altre razze, soprattutto con i changelini. Il rapporto che hanno con gli umani è meno trattato all'interno della serie, diciamo che il rapporto psi e umani, cioè gli psi sono più umani, cioè sono più vicini geneticamente agli umani che non ai changeli, e anche psicologicamente. Esiste una piccola parte della razza psi che quando si è installato il protocollo del silenzio si è staccata dalla psi net e ha scelto di andare nel mondo umano. Nel mondo umano si sono accoppiati con gli umani e dopo generazioni, generazioni e generazioni. Adesso abbiamo gruppi di umani con poteri psi, li chiamano i dimenticati, quindi sono umani, hanno poteri psi ma non sono nella psi net, non hanno bisogno della psi net, però i loro poteri psichici sono molto più limitati, o almeno questo si pensa, questo è quello che pensano gli psi. In realtà i dimenticati non vogliono che gli psi sappiano tutte le loro capacità mentali. È vero, hanno dei problemi a gestire le loro capacità mentali spesso, parte dei problemi che gli psi avevano prima del silenzio e non hanno avuto l'educazione che hanno gli psi per imparare a usare i loro poteri, quindi gli manca qualcosa, ma ne esistono anche di molto potenti. E questa branca di psi umani sembrava che sarebbe stata molto centrale, molto importante nella seconda parte della serie Psicangenis, quindi dopo il quindicesimo libro. In realtà per adesso non è stata ancora esplorata tantissimo, ma è senz'altro molto interessante come concetto. Più esplorato invece il rapporto soprattutto psi-Ciangelin, perché i Cangelin che vivono molto di istinto e quindi vivono molto di emozione, se uniti con gli psi creano dei bambini e delle... creano una genetica molto molto forte e nei Cangelin è molto molto rara il fatto di avere delle malattie mentali. Hanno altri problemi anche loro, però per le malattie mentali eccetera. Quindi diciamo che il rapporto psi-Ciangelin, allora i Cangelin diciamo storicamente odiano gli psi, ma all'interno della serie è molto 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 esplorato i casi in cui gli psi si accoppiano con i Cangelin, perché? Perché è una serie romantica, quindi il fatto di creare delle copie è predominante all'interno dei libri della serie, ok? È paranormal romance, quindi la parte paranormal c'è, ma c'è anche la parte romance. C'è anche molta azione, ci sono molti conflitti tra psi, le altre razze e tra varie categorie di psi. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto nel fatto della categorizzazione degli psi non conta solo che branca di potere tu abbia, e io qui vi ho elencato solo le principali, ok? Conta anche quanto tu sei potente, loro li chiamano gradienti di potenza, puoi essere un gradiente 1, 2, 3 e sei un po' scarso, puoi essere un gradiente 5, 6 o 7, sei nella media. 8, 9 hai un bel potere e poi sopra la scala, oltre il misurabile, abbiamo i cardinali. I cardinali sono quelli che vanno oltre il limite normale degli psi, hanno poteri molto 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 potenti e di solito i cardinali sono quelli che comandano all'interno, cioè la forza politica degli psi è formata dai cardinali, ok? E hanno poteri fantasmagorici, ok? Cioè tipo, di solito chi ha il potere del teletrasporto, per esempio, è a livelli molto alti o cardinali, chi è a livello di chi può creare terremoti o tsunami è cardinali, o puoi anche essere un telepate, semplicemente molto molto potente avere poteri cardinali. Esistono anche gli empati cardinali, sono molto più rari, mi sembra che ne abbiamo incontrati solo due o tre per adesso all'interno dei 19 libri della serie, ma si incontrano molti cardinali all'interno della serie, perché? Perché più poteri hanno gli psi, più è interessante la storia, no? Che l'autrice racconta. Quindi anche se guardassimo le percentuali che la stessa Narini Sim ci dice e i cardinali in teoria sono rari all'interno della razza psi, cioè non è che ci sono tutti questi psi con i superpoteri, cioè gli psi sono milioni, 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 ok? Il circa il 3%, non mi ricordo adesso il 4% di loro sono cardinali, ok? Però se leggete i libri della serie, quasi direi l'80% dei libri della serie, facciamo il 70% ma siamo lì, contiene degli psi cardinali, perché sono più interessanti. Come sempre se guardiamo i libri dove ci sono i changeling, al 99% abbiamo gli alfa, cioè i capibranco protagonisti del libro, perché? Perché seguire chi comanda, seguire chi regge le reddini della politica, seguire chi ha più potere, più forza, è più interessante all'interno dei libri, ok? Detto questo, appunto, abbiamo detto, c'è una parte, una trama che segue tutta la serie ed è quella che vi ho appena detto, e ci sono le varie trame che sono le varie storie d'amore quando gli psi si innamorano di un changeling, un changeling di uno psi, oppure di un umano, oppure due psi e due changeling, seguiamo la loro storia d'amore, ma sono sempre coppie ed individui fortemente legati alla trama che naviga tutta la serie, quindi sono persone di un certo livello politico e amministrativo che hanno a che fare con la politica psi o la politica changeling, ok? E sono persone cardine, per esempio il primo libro, Slave to Sensation della serie, vede protagonista un empate cardinale, figlia di una potentissima telepate, cardinale anche lei, che fa parte del governo psi e questa empate si innamorerà di un alfa, di uno dei clan più potenti dei changeling, naturalmente un clan di una razza animale predatrice, ok? Leopardi in questo caso. E quindi vedete già che fin dal primo libro ci immergiamo nella politica psi e in quello che sta succedendo alla loro razza e così andiamo avanti per tutta la prima serie, ok? E quindi i primi 15 libri. Nei primi 15 libri, nel quindicesimo libro, arriviamo ad un momento in cui la psi net è a un punto di quasi rottura e vanno prese un certo tipo di decisioni, ok? Riguardo al protocollo del silenzio. Queste decisioni, non vi voglio svelare troppo, ok? Portano a un totale cambiamento politico e di governo degli psi che porta alla creazione di una trinità, ok? Cioè finalmente si tenta di creare un organo di governo che comandi i rapporti tra le tre razze, ufficialmente. Non abbiamo solo degli emissari che parlano per una razza e un'altra razza, no? Abbiamo finalmente un organo di governo comune. Quindi comunque gli psi, gli umani e i changeling hanno i loro capi, i loro governatori, ok? Però si crea un organo governativo anche comune, insomma è un po' come l'Europa, ok? Per fare un paragone. Ogni paese ha il suo governo, però viene creato un governo comune che dovrebbe dare delle regole comuni o comunque dovrebbe regolare i rapporti tra i vari paesi. In questo caso sono i rapporti tra le varie razze. Considerando che stiamo parlando di tre razze che sono state quasi in guerra o comunque in forte conflitto per anni e anni e anni, soprattutto gli umani hanno un condizionamento molto forte, una paura molto forte nei confronti degli psi. Sia quelli che si sono accoppiati con loro, i cosiddetti dimenticati che per anni sono stati ammazzati dagli psi, se venivano trovati, sia gli umani normali che sono particolarmente vulnerabili ai poteri psichici, cioè potevano subire il lavaggio del cervello dagli psi, non hanno qualcosa che li protegga dai loro poteri, ok? Però comunque si riesce a creare questo organo di governo comune che la chiamano Trinità, dove ci sono dei rappresentanti psi, dei rappresentanti umani e dei rappresentanti changeli. Allora, a livello politico, nei quattro libri che formano la Psi-Cangeli Triniti, cioè la nuova serie, non è che succeda molto, perché? Perché siamo ancora in guerra, siamo ancora in guerra, c'è qualcuno che non vuole che questo governo comune funzioni e fa degli atti terroristici, ok? In più, all'interno della Psi-Net siamo ancora in grave crisi, cioè ma è grave, grave, grave crisi, ok? Nonostante le decisioni prese a livello del silenzio, la Psi-Net non è comunque ancora salva, ci sono ancora più fratture di prima perché? Perché si sono accorti che non basta il ritorno delle emozioni per far sì che il muro non crolli, bisogna anche che all'interno della Psi-Net ci siano più razze, cioè bisogna, allora, in soldoni qual è il problema? Che sembra abbiano capito, che la Psi-Net ha bisogno che gli psi si accoppino con le altre razze e che elementi delle altre razze collegati con gli psi, ok? Entrino nella Psi-Net, perché la Psi-Net, agli albori di quando è stata creata, conteneva tutte e tre le razze. Senza quella cementificazione, anche se sono tornati gli impati, ci sono ancora problemi. In più, questi problemi sono aggravati dagli atti terroristici di chi non vuole la Trinità e di chi vuole addirittura ancora il ritorno del silenzio e da chi vuole prendere il potere politico all'interno degli psi. Quindi c'è un gran casino politico, un gran numero di atti terroristici e quindi a livello politico non è che la Trinità faccia delle grandi scelte, perché sono occupati a cercare di salvare più civili possibili dagli attacchi terroristici, ok? Due sono i filoni principali di questa seconda serie, quindi salvare la Psi-Net che è il filone che continua dalla prima serie, fermare quelli che non vogliono la Trinità e non vogliono che le tre razze coabitino e convivano pacificamente e sconfiggere appunto queste persone che non si sa bene chi siano. Allora, al 99% si è capito che sono psia, perché i problemi nascono sempre da lì, però vengono da più parti, ok? E bisogna fermare questi attacchi terroristici. Per adesso qua è il filone della seconda serie. Detto questo cos'altro posso dirvi senza svelarvi troppo? I libri sono belli, sono scritti bene, i personaggi sono sempre interessanti, c'è amore, c'è avventura, ci sono scontri militari, poteri psichici, poteri fisici, sono molto belli. È una serie che io amo molto, anche se devo essere sincera, la seconda parte della serie, cioè dalla Trinity mi aspettavo qualcosa di diverso, invece sta rimanendo molto 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 simile alla prima serie, come problemi e come libri. E quando dico molto 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 simile intendo, allora, al mondo, come vi ho detto, al mondo esistono tanti tipi di potere psi e tanti tipi di changeling, ok? E però siamo sempre lì, cioè nel senso, i changeling che girano in queste libri sono sempre lupi e leopardi, al 99%. In più, oltre ad essere sempre lupi e leopardi, sono sempre gli stessi clan di lupi e gli stessi clan di leopardi che tornano, perché? Perché alla fine le figure politiche sono sempre quelle all'interno di quei clan, quindi siamo sempre lì, i personaggi sono sempre quelli, anche se se ne aggiungono di nuovi, però più o meno sono sempre questi. E ci fissiamo lì, cioè abbiamo intravisto che esistono i changeling marini, ok? Quelli che diventano pesci. Sarebbe stato interessante approfondirlo. Sappiamo che ci sono i changeling uccello, le aquile e altri, sarebbe stato interessante scoprire qualcosa su di loro. Invece Nalini ha fatto solo due libri su quelli marini e uno sugli orsi, che per carità non ha niente contro gli orsi, almeno abbiamo cambiato tipo di animale, ma subito dopo quei tre libri siamo tornati ai lupi. Per carità i libri sui lupi gli vengono meglio che non i libri sugli orsi e sui pesci. Però un po' di varietà non sarebbe stata male. E lo stesso per gli psi, ho capito che parlare degli psi empati e degli psi con poteri combattivi è più interessante che non parlare di uno psi medico, cioè me ne rendo conto. O di uno psi solamente telepate, va bene, ok? E comunque all'interno dei poteri combattivi ci sono dei poteri molto diversi, se non altro qui un po' più di varietà l'abbiamo avuta, ok? Però è più o meno, cioè ormai siamo arrivati sempre che c'è questo gruppo militare chiamato Arro e siamo sempre lì, e sempre sugli empati, e siamo sempre lì. c'è un po' di varietà anche qui. Poi io capisco che gli psi, questi grossi poteri, soprattutto i poteri combattivi, gli creano dei problemi a livello psichico, non sempre problemi, va bene. Però non ci può essere finalmente un libro con uno psi che non ha problemi psichici. Cioè non ha problemi di dire morirò a breve perché il mio cervello sarà fritto dal mio potere entro tre giorni. Cioè non dico che dieci libri più o meno vedono degli psi con questo problema, ma ve lo dico perché dieci libri con questo stesso problema nel protagonista psi ci sono, ok? E quindi un po' più di varietà, allora personalmente non ho amato i libri in cui a livello di scrittura e di trama Nallini ha trattato degli umani, degli umani puri o dei dimenticati, ok? Però se sono importanti per la psi net, soprattutto nella serie Trinity, avrebbe dovuto parlare più degli umani, invece gli umani non pervenuti. E anche lì perché? Perché probabilmente è meno interessante. Cioè io stessa ho amato meno i libri in cui una parte della coppia non ha poteri. Però magari qualche libro anche lì non sarebbe stato male, ok? E qui concludo la mia diatriba sulla serie e vi rimando alla recensione che farò in un altro video appunto dell'ultimo libro di Nallini Singh, Alphanite, che è il quarto libro della serie Trinity o se volete il diciannovesimo libro della serie Psicangeli perché tanto è uguale. Chiudo questo video dicendovi che l'anno scorso a più o meno che mese era? Ottobre 2019 la Hop Edizioni ha detto che aveva comprato i diritti per poter pubblicare finalmente la serie Psicangeli in Italia, ok? In lingua italiana per chi non la può seguire in inglese. Ad oggi che siamo a luglio 2020 con quello che è successo, capisco che le case editrici siano in forte difficoltà, non se ne sa più niente. Vi ricordo anche che nel 2012 la casa editrice 360 aveva detto che avrebbe pubblicato la serie Psicangeli e dopo non ne ha più fatto niente. La Hop lo ha detto l'anno scorso a fine anno, quindi magari più avanti potrebbe mantenere la promessa. Ad oggi non sappiamo se la serie arriverà in Italia effettivamente oppure no. Se arriverà io vi consiglio di leggerla perché ci sono molti libri molto belli all'interno. So che dalla mia recensione che ho fatto adesso sembra che abbia qualche problema ma in realtà è una serie che merita veramente e che io continuo a seguire molto molto volentieri. Soprattutto i primi libri, i primi dieci libri e anche il dodicesimo libro e il quindicesimo libro sono fantastici. Cioè allora dal primo al decimo sono da leggere tutti e anche fino al dodicesimo, ok? Ma proprio proprio se li volete leggere i primi quindici tutti. Dopo comincio a avere qualche dubbietto, ok? Però veramente ci sono tanti tanti libri che meritano veramente molto 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 belli. Bene nomino qualcuno. Allora Slave to Sensation il primo è fantastico. Il terzo Caressed by Eyes, fantastico anche quello. Il nove, fantastico. Il dieci, stratosferico Kiss of Snow, quello con l'alpha dei lupi, ok? Fantastico. Il nove è molto bello. Il undici molto bello. Il dodici che è su Krajček, uno dei degli psih più potenti mai nati, ok? Molto molto bello. E il quindici che è Allegiance of Honor è veramente veramente bello e comunque chiude la prima serie quindi è molto molto importante a livello della serie. E' molto molto bello. Quindi veramente meritano. Se arriveranno in italiano mi raccomando comprateli e appoggiate questa serie in modo che si possa riuscire a pubblicarla per intero. Una cosa che so già sarà difficilissima e quasi impossibile ma se venderà tanto potrebbe succedere. Se non arriverà in Italia vi consiglio di tentare di leggerla in inglese. E' un inglese accessibile o perché l'autrice è neozelandese. Si leggono abbastanza facilmente, non ci sono dei termini difficili, non c'è una sintassi difficile e sono molto molto godibili anche in inglese.